Ciao a tutti, sono Alessio e vi mostrerò come fare una puntura di calcioeparina, chiamata anche eparina, conseguente a un gesso al piede per evitare che partano dalle flebbiti. E' una puntura che si fa sulla pancia, quindi tirate fuori la puntura, sono già delle punture pre riempite, la scartate, prendete un dischetto di ovatta, mettete un po' d'alcol, passate l'alcol, la zona in cui devono essere fatte le punture è sotto l'ombelico, passate l'alcol prima un giorno a sinistra e l'altro a destra, prendete la puntura, togliete il tappo, fate uscire l'aria, dopodiché afferrate la pelle della pancia e trasversalmente con un colpo secco, infilate la puntura, spingetela liquido all'interno, piano piano, e in maniera decisa tirate via la puntura. Le punture di eparina non vanno mai massaggiate, altrimenti vi viene l'ematoma, mi raccomando. Rimettete il tappo e smaltite correttamente. Ciao!